Stiamo sopra, piccola. Qui. Minchia. Cosa? Stavo dicendo, il palimente è ancora abbastanza stabile. Oh, vedete, per terra ci sono delle crepe. Non ripassare, sarebbe un bel volo qui. Già, non passare. Rimanete nei corridoi perché è più stabile. È pericoloso qua, possiamo passare? Io la prenderei a ridere, però vedi quella macchia. Raga, io la prenderei a ridere. Sembra un pene. Eh, vabbè, dopo questa qui la censuriamo. Ok, siamo nella stanza, nella casa. Una torcia a me serve, raga. Se no, se no, se no. L'altra torcia dov'è? Quella che mi aveva dato te? Lo dovessi vedere tu? Eh, piccola, mamma. Madonna, raga. Dove sei? Sei qui, piccola? Stai vedendo. Sei salita qui. Guarda qua. Mi hai fatto spaventare. Guarda qua. Guarda. Piccola, sei tu? Fai un rumore, dai, fatti sentire. Ci hai seguito, piccola? Oppure ci stai mostrando la tua stanza? Di qua è la tua stanza? È qua. Fino qua non si illuminava niente. Di qua sì, però. Ci stai illuminando la tua stanza? Tieni, amore. Mi hai fatto spaventare prima. Sei con noi? C'è la famosa stanza azzurra. C'è una famosa stanza azzurra. Era la tua, piccola? Non andate oltre, eh. Lì è per un lato. No, qua no. Qua, qua, stai avanti qua. Era la tua la stanza azzurra? Qua stai una delle scale, lì. Guarda come si sta illuminando. Si sta illuminando. Eh, guarda, 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 tutte e due. Forse penso che l'aveva preso. Stava venendo qui. Dov'è la stanza azzurra? Era qua, vicino. No, attenzione qui, eh. Guarda, attenzione. Oh, qua ci sono travi, eh. No, non andate qui, là. Ci stai seguendo, piccola? Eh? Stai giocando vicino a noi? Guarda qua, sei riavvicinato a noi? Perfetto, vedi? Vedi? Sei riavvicinato a noi. Ma quindi stai giocando? Non sei sempre qui? Stai giocando? Ci vuoi far vedere la tua casa? Sì, guarda qua, guarda, 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 guarda. Ok. Adesso facciamo una cosa. Noi ci facciamo una foto. Vuoi? Vuoi uscire pure tu con noi nella foto? O chi che sia, vuole uscire con noi nella foto? Vi andrebbe di uscire con noi in foto? Ci facciamo una bella foto. Ve le ricordate le fotografie? Non sa bene se c'è. Nei marcheggiani? Sì. Bimba, ti sei mai fatta una foto tu? Un ritratto. Come un quadro. Ci indicate dove è la stanza azzurra, per favore? No, questa è la stanza azzurra. Guarda, guarda, guarda là, al rosso ragazzi, fino al rosso è arrivato. No, però qui. Qui. Siamo sempre attenti. Non ci vuole niente. No, 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 è fatta pesca. Sì, sì. È, 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 è fatta proprio... Quindi è stanze. Qua sono stanze concatenate l'una con l'altra. Qua sono stanze concatenate l'una con l'altra. Qua si può arrivare. Sì. Ma guarda, guarda, guarda. Ce l'ho fatto un rumore? Per favore. La campanella, ce la suonate? Per favore. Andiamo di qua, Mario. Tutto attenti. Non ci vuole fare una mano. Dico, la prima è la prima, sei qui vicino a noi? Sono tanti qua. Questo è la mia stanza. Dov'è la famosa stanza qua? Guarda qua, ancora, raga. Guarda qua. Guarda qua. Che cosa? Guarda. La stanza buona. No, ancora stanza. No, è dal corridoio. Qui si vedono anche le travi qui. Vi piace stare qua dentro in questa villa? O vorreste uscire? O vorreste andare via? O vorreste toccare il palazzo? Eh? Ci indicate dove è la stanza azzurna, per favore. Qua siamo passati, no? Sì. Ah sì. Però, ora dobbiamo andare a una altra parte. Ci indicate, ma ci indichi la stanza azzurna, per favore. guarda 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 la rosso ragazzi fino al rosso è arrivato però qui fino al rosso qui dove siamo saliti ci sono molte cripe ce l'ho fatto il rumore per favore la campanella ce la suonate per favore andiamo di qua sono attenti sono attenti sono attenti qua dov'è la famosa stanza guarda 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 ancora stanza è dal corridoio qui si vedono anche le travi qui c'è un'altra stanza guarda 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 guard Pite? No, pite scendi, scendi. Questo scalino qua si è abbassato. Sì, ma quel scalino là si è abbassato come stavi salendo. Siete qua? Siete qua vicino a noi? Bambina, sei qua vicino a noi? Soldato? Sei il soldato di prima? O il partigiano? La buchessa. Marchesi? No, no, no. Prono Marchesi. Sei tu bambina? Illumina il K2, dai. No, no, abbiamo chiesto se c'è qualche... Facciamo un po' di servizio. Donna di servizio? Sì, qualcuno del personale? Maggiordumo, cameriera... Uccisa qua per puro caso? Semplicemente morta per vecchiai. O sei morta qui per vecchiai e sei rimasta qui intrappolata in questa villa? Eh? Adesso noi scendiamo un piccolo oggetto. Io ancora non ho acceso internet. Sì, no, no, ma è qua, è qua. Adesso noi scendiamo un oggetto. Volete parlare con noi? Vi va di parlare con noi? Illuminate il K2, per favore, se vi va di parlare con noi. Non abbiate paura di noi, avete visto che siamo buoni. Mi dici come ti chiami? Non ci vuoi dire il tuo nome? Io ora accendo un oggetto che farà un po' di rumore, però riuscirei a comunicare con noi, va bene? La moda è da notturno. Nicola? Vieni vicino a noi. Vado? Vado? Mhm. Vimba? Parate attraverso questo aggeggio, per favore Come ti chiami? Sei un maschio? Sì, cadiamo? Di dove sei? Devo fare la domanda perché mi sa che è del comodo una città Di dove sei? No, io sono in un'altra città Ancora più di uno? Può essere Sei più di uno? Checkpoint Non mi sarebbe sì No, checkpoint è quando ti devi trovare con i tuoi compagni Quindi siete qui che state parlando con noi? Era un punto di riferimento a questa villa Quanti siamo? Mi sa che hai detto ragazzi Mi ha detto voi tre Ma noi siamo in quattro Lo sapete in quanti siamo? Se noi ci presentiamo vuoi che ci tradirei vostro nome? Come ti chiami? Ciao 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 Ciao